salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi nuovo volo con l'auto elivo lo proviamo sopra il fiume adda quindi lo farò volare anche diciamo molto vicino all'acqua e in situazioni abbastanza tra virgolette estreme per vedere il suo comportamento con i riflessi della luce dell'acqua con il sensore che legge l'acqua tutte queste situazioni che possono magari mandare in crisi un drone in queste situazioni critiche quindi ragazzi adesso lo proviamo e poi tiriamo le conclusioni preparo tutto e vogliamo con l'auto elivo sopra al fiume adda grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi ragazzi, secondo me questo autelivo sta migliorando, adesso oggi l'ho provato con l'aggiornamento beta dell'applicazione per Android, perché in questo momento la versione beta in prova è solo per Android e comunque si è comportato benissimo. Quindi firmware beta e applicazione beta. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscriviti al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!